Bene, allora buongiorno, anzi buon pomeriggio e benvenuti. Il mio compito davvero è privilegiato oggi perché è soltanto quello di introdurre chi farà il lavoro, diciamo, vero e proprio della presentazione del libro, della discussione. Vorrei appunto ringraziare innanzitutto l'Osservatorio Volcani-Caucaso Trans-Europa per ospitare, diciamo, questa presentazione e tutti presenti online tra i quali alcuni studenti anche del corso di laurea di studi internazionali a Trento nel quale insegno. Allora, dunque oggi appunto il tema verte intorno alla presentazione del libro di Arianna Piacentini. Vi presento innanzitutto Arianna, poi dico due parole sul libro. Dunque Arianna ha ottenuto il suo dottorato di ricerca in sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l'Università di Milano nel 2018. Il suo lavoro si è principalmente concentrato sulle società etnicamente divise, i sistemi di power sharing, i movimenti nazionalisti e le relazioni clientelari. è stata visiting researcher presso l'Università di Cambridge, la Santissima Cirillo e Metodio di Scoppie, l'Università di Sarajevo e postdoc research fellow presso il Center for Advanced Studies dell'Università di Rieca. Attualmente sta completando un altro postdoc all'Euroarch di Bolzano ed è anche visiting scholar presso il centro, o in medio in inglese, del Center for the Study of Ethnic Conflict all'Università di Queen's, a Belfast. Arianna presenterà il suo libro, uscito pochi mesi fa, attualissimo, dal titolo Ethno-Nationalities Evolution in Bosnia-Herzegovina e Macedonia. La presentazione sarà in italiano, quindi il libro è in inglese, ma la presentazione sarà in italiano. Il tema e il libro sono molto interessanti e stimolanti, mettono insieme due questioni fondamentali per la regione, cioè per il generale per i Balcani e in particolare per la Bosnia e la Macedonia, e cioè il tema del nazionalismo e come questo è vissuto in particolare dalle generazioni più giovani, che con un po' di retorica si può dire sia un futuro della regione. Discuterà insieme ad Arianna in particolare del contenuto del libro, Caterina Gobert, che è esperta di Balcani e che ha sviluppato, maturato la propria esperienza sulla regione attraverso periodi di studio e di ricerca presso l'Università di Zagabria, poi la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bagnaluca in Bosnia, quindi, e la New Bulgarian University a Sofie. Ha lavorato come Human Rights Officer alla missione OSCE in Bosnia, quindi Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa in Bosnia, e come ricercatrice presso l'EURAC, e attualmente è una collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caupas o TransEuropa. Organizzeremo questo tempo insieme, iniziando con una presentazione da parte di Arianna, una decina di minuti, poi Caterina solleciterà Arianna con alcune domande e poi lasceremo anche naturalmente lo spazio da casa per rivolgere domande alle speaker, a entrambe direi, e cercheremo di completare la presentazione nel giro al massimo di un'ora. Quindi ti darei la parola Arianna, grazie. Ok, grazie Roberto, grazie Caterina e buongiorno a tutti, benvenuti a tutti quanti in questa mia presentazione di oggi. Più che essere una presentazione noiosa di questo libro, vorrei instaurare poi anche con Caterina una chiacchierata, un dialogo sul lavoro che c'è stato dietro a questo libro e più che altro su quelli che sono i risultati, perché questo libro nasce dalla mia ricerca di dottorato e ho fatto un dottorato, sono dottorata appunto in sociologia e metodologia presso l'Università di Milano e ho praticamente condotto una ricerca di tre anni, in realtà due sul sul campo, quindi di divisa tra Macedonia e Bosnia, in cui appunto ho studiato le questioni relative all'etnonazionalità da un punto di vista eh bigenerazionale. Quindi questo libro è il frutto di tantissime, numerosissime interviste condotte con interi nuclei familiari ehm in Bosnia e in Macedonia però in realtà erano scopie e Sarajevo proprio per questioni eh logistiche e tempistiche ecco non potevo eh fare molto. Ehm quindi nulla è stata una bella ricerca eh che verteva appunto su queste due generazioni, la generazione yugoslava e la post-yugoslava. Ehm nello specifico la generazione yugoslava che ho ehm che ho approfondito erano questi genitori completamente socializzati nell'età d'oro della yugoslavia quindi gli anni sessanta e settanta persone nate quindi eh all'inizio degli anni cinquanta praticamente e i loro figli invece erano la prima generazione post-yugoslava quindi i primi nati eh negli anni novanta quindi completamente socializzati in quella che adesso viene chiamata eh nell'ambito della scienza politica o della sociologia politica che viene chiamata eh l'etnopolitics ehm nelle società divise post-yugoslave, post-conflitto eccetera. Quindi ehm questo è stato lo studio, vedere un po' come la loro concezione e i significati che loro attribuiscono proprio all'identità etnonazionale siano cambiati da una generazione all'altra, quindi da una generazione appunto che ha vissuto in pieno eh la yugoslavia quindi eh completamente ehm circondata da slogan retoriche politiche appunto che volevano la creazione di questa ehm identità supra etnica dove quindi si dava si cercava quantomeno di dare poca enfasi, meno enfasi alle particolarità etnonazionali ha poi una generazione invece cresciuta nel in un contesto dove questa cosa è stata esasperata all'estremo opposto quindi dove l'etnonazionalità per questioni politiche e mille altre questioni che poi magari ecco discuteremo ha avuto e ha assunto un ruolo e un significato completamente diverso dove eh il nome che hai eh automaticamente ti incasella e in qualche modo ti preclude certe strade o te ne apre altre ecco quindi quello che io volevo capire era un po' che cosa ha influenzato questi cambiamenti come queste generazioni hanno vissuto dei macro cambiamenti a livello eh non solo politico ma poi anche istituzionale sociale perché quello che ho fatto nel libro era proprio cercare di ricostruire quali sono i maggiori fattori che hanno poi portato a questi cambiamenti no? E quindi vedremo eh se ne avremo appunto l'opportunità come anche proprio eh le istituzioni create in un certo modo poi automaticamente hanno un impatto politico che poi ha un impatto sociale e che poi si riversa sul modo in cui le persone interagiscono nella loro vita quotidiana e come poi questo influenza tutto il resto chiaramente sono eh tanti fattori tante dinamiche eh non si può eh generalizzare più di tanto perché anche i singoli piccoli contesti poi fanno la differenza non potremo mai comparare alcune città in Bosnia con altre in Macedonia o semplicemente anche all'interno dello stesso contesto non si può per questioni appunto etniche oppure di eh di religioni di di vissuto proprio anche di eredità storico culturale delle singole città come per esempio quella di Sarajevo che è molto particolare ehm quindi ecco non non si può generalizzare più di tanto però ecco eh si possono trarre delle belle conclusioni si possono fare delle belle riflessioni soprattutto appunto sul sulle generazioni più giovani che appunto come diceva Roberto sono il futuro no? E e quindi ecco ragionare soprattutto sui giovani e sicuramente poi approfondire e fare altri studi eh magari comparando le generazioni più giovani ecco potrebbe essere sicuramente un ottimo nuovo punto di partenza eh quindi diciamo che questa è un po' la mia introduzione così eh a questo lavoro e quindi al mio lavoro di dottorato che poi appunto è diventato questo libro e mh niente io direi che magari possiamo cominciare con Caterina a eh girare un po' il coltello nella piaga vediamo cosa viene fuori certo e beh diciamo che questa parte introduttiva è stata quasi esaustiva di tutto quello che di quasi tutto quello che volevo chiederti e per me è molto interessante questo libro perché comunque è una parte più generale teorica che dà proprio un ottimo quadro di quella che è la situazione e di di come si è arrivati poi anche ai ai conflitti degli anni novanta e invece poi la seconda parte del libro che è quella proprio empirica delle delle interviste e ha questo focus molto interessante perché diciamo che riporta una dimensione privata e quelli che sono invece cose che spesso vengono strumentalizzate e e secondo me è molto interessante proprio perché si smarca da questa retorica che invece troviamo in maniera onnipresente in tutto in gran parte della letteratura eh che parla appunto di etnopolitics non so come dire in italiano eh nello spazio della ex Yugoslavia che parla di guerre fratricide così invece riportando tutta una dimensione più più intima più privata secondo me riesce anche a dare gli strumenti per capire meglio certe cose e questo mi ha ricordato un articolo che ho letto di recente di Azra Romagic che lei è però etnografa e che che invece di parlare di Sarajevo fa uno spaccato del flirting tra adolescenti a Mostar e appunto vorrei chiederti un po' partendo partendo da questo contesto ehm un po' perché appunto ho scelto di vedere la differenza tra queste due generazioni e e anche secondo te come le le generazioni si influenzano l'un l'altra e perché appunto in questo articolo la Romagic diceva che in un certo senso i più giovani sono molto influenzati dalle narrazioni degli adulti e da come gli adulti diciamo gli sconsiglino anche di di mischiarsi tra di loro per questioni di di rendersi la vita più facile di convenienza quindi volevo chiedere a te appunto come come vedi questi questi aspetti nella tua ricerca e se ce ne puoi parlare sì allora una delle eh questioni infatti che io indagavo e una delle motivazioni per le quali ho voluto fare proprio uno studio su due generazioni e non due generazioni a caso ma proprio eh all'interno dello stesso nucleo familiare era proprio vedere che tipo di influenze eh c'erano e se c'erano perché non è detto necessariamente che eh i genitori influenzino i figli o che ci sia una continuità generazionale nei valori piuttosto che nei comportamenti ma potrebbe esserci anche eh un'influenza al contrario dove invece sono i figli che magari cercano di influenzare o di cambiare qualcosa dei propri genitori quindi del proprio modo di vedere di esporsi quindi questa appunto della questa questione della continuità generazionale è esattamente un aspetto che io ho cercato di indagare e eh per esempio una delle questioni eh era anche questa qua del flirting come come dici tu di questo articolo che hai letto quindi del dell'ipotetico partner eh non solo dei dei genitori quindi la maggior parte delle persone erano in un matrimonio eh monoetnico ok in Bosnia qualcuno misso però in Macedonia assolutamente no ma anche qui di nuovo eredità socioculturale comunque del paese che deriva comunque da eh un certo eh istituto una certa istituzione anche di ehm politica e e tutto quanto vabbè in Macedonia eh è un contesto diverso comunque ehm sicuramente eh la questione anche del dei partner e del flirting è venuta molto fuori e come dici tu appunto del non complicarsi la vita eh oramai è troppo difficile no eh avere un eh un partner che non è come te tra virgolette perché perché non si sa mai e tipo una delle cose che mi veniva spesso detto è perché poi dove lo mandi a scuola e ma poi la religione e ma poi la chiesa che sono problemi che in realtà sono più politici che reali alla fine perché la maggior parte delle persone per esempio in Bosnia tra quelle che soprattutto che ho conosciuto ma anche in Macedonia in realtà non era effettivamente religiosa non era praticante quindi di fatto il problema della chiesa o dell'istituzione della religione non è un problema concreto che si viene veramente a porre no è più una cosa politica politicizzata ti viene ripetuto così tante volte che alla fine poi diventa un po' un problema reale ehm però ecco c'erano comunque a a livello generazionale delle differenze interessanti eh per esempio ehm nel contesto bosniaco quello che io ho notato era una certa effettiva continuità eh valoriale e anche nei comportamenti soprattutto per quanto riguarda eh il proprio essere la propria identità ehm ad esempio in Bosnia c'era questa continuità che era più che altro legata al modo in cui i genitori erano stati socializzati durante il periodo jugoslavo quindi che la tua identità è etnica diciamo o il tuo appartenere etnico è una tra le tante componenti eh del tuo io di quello che sei non va non va politicizzata e non va eh strumentalizzata e questo diciamo sentire è stato molto trasmesso ai loro figli però ecco una cosa che bisogna sottolineare e premettere è che comunque la mia ricerca e questo eh finding diciamo è relativo alla città di Sarajevo che quindi come dicevo prima ha una certa eredità socioculturale chiaramente se facciamo le stesse interviste probabilmente appunto nel contesto di Mostar o di Bagnaluca troviamo un altro tipo di retorica un altro tipo di narrazione sull'identità sul conflitto e e tutto il resto eh stessa cosa in Macedonia in Macedonia invece c'era ehm non c'è non 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 si potrebbe parlare ehm di eh continuità eh valoriale tra le due generazioni o comunque di significati attribuiti all'identità etnonazionale ma eh di simili similarità si dice similarità in italiano similitudine sì ecco eh più che altro a livello superficiale cioè il modo in cui le due generazioni si comportano è effettivamente lo stesso però in realtà i significati che le due generazioni danno a certi episodi certe situazioni è completamente diverso e questa similarità era semplicemente dovuta al fatto che comunque il contesto di scopie o comunque il contesto macedone è molto più diviso e molto più segregato tra i vari tra i due gruppi principali piuttosto che il contesto bosniaco ad esempio a Sarajevo tu non puoi evitare qualcuno cioè non non puoi effettivamente capire chi è chi e evitarlo eh in città Sarajevo invece a scopie puoi perfettamente eh sai chi è chi sai dove è dove e sai come evitare quando evitare quindi ecco questa eh anche struttura urbana diciamo quindi anche l'impianto urbano proprio della città ha fatto sì che le due generazioni di fatto poi si comportassero più o meno nello stesso modo perché alla fine la città eh è quella che è e il modo che hanno i due gruppi principali di vivere è estremamente segregato quindi scuole divise eccetera eh però ecco il modo in cui le due generazioni interpretano e significano certe situazioni ma anche proprio il il loro stesso background o anche ehm in termini più generali proprio l'identità dello Stato eh di per sé è estremamente diversa quindi ecco questo è ehm poi si ricollega chiaramente a un sacco di altre cose però spero di essere stata assolutamente poi ovviamente anche a degli appunti molto sciocchi chiaramente il fatto che a Sarajevo tutti quanti parlino la servo croato che è ok senza entrare nel merito della politicizzazione della lingua però di fatto è impossibile distinguere chi è chi per le parole che vengono usate e a scopi invece il macedone e l'albanese sono completamente diverse come lingue quindi sicuramente è più facile distinguersi e un'altra cosa è sempre un po' sul diciamo trarre vantaggio o comunque questioni di di convenienza della propria della propria identità e che emergono in nel libro e poi tu hai approfondito di più nella nella tua ricerca più recente ad Eurac nel corso della dei due anni scorsi eh è quello del del clientelismo quindi come dici tu chiaramente certe questioni come la religione e e poi vabbè nel 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 vabbè in generale delle abitudini sono più politiche che che realmente personali ehm si inquadrano in una situazione in cui eh le persone per diciamo sopravvivere devono ehm comportarsi in maniera opportunista e quindi fare delle scelte di un certo tipo ehm per poter vivere in maniera più o meno normale e e secondo me è una cosa di cui negli ultimi anni si sta incominciando a parlare di più ma se 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 ne parla e mh è quando scoppia una crisi quindi ad esempio nel caso della Macedonia il fatto che eh i partiti politici avessero permeato in maniera così capillare la società è emerso solo quando ehm è scoppiato il caso di corruzione o comunque insomma le le wiretapping tutte le registrazioni fatte ai telefoni da parte del governo di Gruevski che sono uscite nel duemila e quindici e quindi appunto vorrei vorrei che ci ci spiegassi un po' questa come nella vita quotidiana questo tipo di comportamento eh si manifesta e e poi un po' provocazione se la vedi una una situazione specifica dei paesi che hai studiato in questo libro quindi paesi ex ugoslavi o se invece ehm succede anche a casa nostra insomma eh cominciamo col dire che tutto il mondo è paese ok eh magari allo stesso fenomeno eh vengono dati eh dei nomi diversi con delle connotazioni diverse però poi di fatto se andiamo a guardare eh il fenomeno è esattamente lo stesso quindi questa questione del clientelismo dell'opportunismo ehm l'ho studiata e molto bene diciamo molto nel dettaglio eh appunto per questo libro in questa ricerca che era appunto su Bosnia e e Macedonia però ovviamente ehm non sono questioni che riguardano solo la Bosnia la Macedonia o non solo la ex Jugoslavia o non solo l'est Europa ecco eh voglio dire ehm e non solo l'Italia ecco eh sono questioni che purtroppo eh riguardano forse tutti i paesi però ecco la questione poi del utilizzare perché questo è quello che è effettivamente venuto fuori utilizzare per ragioni di mero opportunismo eh la propria identità etnica quindi la propria appartenenza come uno strumento per avere ehm o godere di benefici privilegi o avere accesso privilegiato a risorse servizi eccetera ecco è una cosa che ho riscontrato non solo appunto nei Balcani ok però ecco anche nel contesto delle dell'Alto Adige appunto il mio postdoc era appunto Alto Adige e Bosnia una comparazione viene fuori più o meno la stessa cosa che chiaramente eh nel momento in cui hai uno stato che è organizzato etnicamente perché comunque una eh un comune denominatore di tutte queste società ehm volente o nolente è il fatto che siano tutte organizzate con la struttura del modello consociativo del power sharing etnico quindi di fatto a livello proprio istituzionale e poi di conseguenza politico l'appartenenza etnica degli individui conta e conta notevolmente eh quindi questa è diciamo è una c'è proprio una struttura statale che eh come si dice incanala eh le interazioni tra il cittadino il partito politico e poi lo Stato quindi partiti politici sappiamo non scienziati politici che sono proprio l'intermediario quindi comunque questo tipo di assetto statale già incanala e favorisce diciamo un certo tipo di interazioni ehm poi chiaramente nel momento in cui tu hai una eh scarsità di risorse eh quindi ci sono poche risorse elevati livelli di eh disoccupazione poi comunque nel caso della Bosnia e della Macedonia stiamo parlando dei cosiddetti eh state captured quindi gli stati catturati si direbbe in italiano quindi dove hai comunque questi pochi partiti che controllano tutto si spartiscono il potere ma non solo il potere ma più che altro quelle poche risorse e tu povero cittadino se anche non te ne frega niente della tua identità etnica o che però sai che se vuoi ottenere questo servizio o eh questo tipo di lavoro sai che devi passare attraverso un certo partito politico che poi se entri nelle sue grazie ti darà questo tipo di risorse o servizi di cui hai bisogno e di conseguenza quello che è venuto fuori è che spessissimo anche i giovani le generazioni giovani che sono totalmente antinazionaliste magari contrarie a questo eh modo di amministrare lo Stato che non ne possono più della corruzione eccetera però ad un certo punto si devono scontrare proprio con la realtà dei fatti che la realtà dei fatti è c'è questo partito che io odio che è un partito che era al potere durante la guerra o qualsiasi cosa è un partito nazionalista è corrotto ma io so che se voglio tirare avanti perché ho trent'anni e anche se mi sono laureato so che devo prima o poi come mi dicevano loro andare a bossare alle porte del partito quindi devi cominciare a magari lavorare per il partito fare non so appendere i poster appendere i cartelloni fare campagna elettorale andare alle proteste quando ci sono perché eh la mia ricerca è stata svolta a scopie nel pieno della Colorful Revolution io appena sono arrivata a scopie un mese dopo eh è scoppiata la Colorful Revolution e quindi tante persone tanti ragazzi che io intervistavo ehm capitava che erano pagati eh o sponsorizzati ecco diciamo così eh facciamo un po' più politica lì corretta erano sponsorizzati da qualche partito eh per comunque andare e fare e ed era così quindi a cosa viene fuori che se anche non te ne frega niente della tua eh di queste esasperazioni dell'identità etnonazionale questa politicizzazione se anche non te ne frega niente non ne puoi più però poi ti devi scontrare con la realtà in cui vivi non è sempre eh facile andarsene perché tanti giovani vorrebbero andarsene no? E comunque questo è un altro problema dell'est Europa dei giovani che se ne vogliono andare però non è sempre facile non tutti hanno i mezzi e quindi quando non è così eh la tua identità o comunque il tuo background diventa uno strumento e questo è una tristezza diciamo ehm viene diventa una proxy così la chiamavo proprio diventa uno strumento per entrare a far parte di questo sistema che anche se non ti piace anche se lo disprezzi alla fine è quello che poi ti dà da mangiare alla fine del mese e poi ecco così si alimenta un circolo vizioso no? Dove comunque questi sistemi di power sharing etnico vengono criticati tantissimo però non vengono mai cambiati e quindi poi queste società vengono chiamate quelle società eh che rimangono immobili per sempre che sono eh dove c'è questo state capture che si alimenta e si alimenta eh questa corruzione esasperata e non se ne esce più però ecco c'è tutto un circolo vizioso quindi un'altra delle cose che io cerco di sottolineare nel libro è che eh spesso ad esempio quando si fa ricerca accademica nelle scienze politiche spesso si tende ad attribuire la colpa diciamo o la responsabilità di certi meccanismi sempre all'elite politica certamente l'elite politica eh ha un peso fondamentale nel creare compromessi eh nel migliorare o nel peggiorare certe situazioni però bisogna anche guardare al cittadino il cittadino non è sempre il passivo spettatore della realtà che la subisce perché non ha il potere è comunque anche il cittadino stesso all'interno di certe dinamiche sì spesso non ne ha non ha molta scelta o non ci sono grandi alternative sicuramente però comunque ecco bisogna guardare da entrambe le prospettive quindi eh il lavoro che ho cercato di fare era capire anche un po' eh le due generazioni come si rapportano e che tipo anche di narrazione danno ad esempio al cliente a questo tipo di clientelismo chiaramente le narrazioni che vengono date eh in Bosnia e in Macedonia sono diverse e soprattutto era interessante tra le due generazioni in Macedonia sono molto diverse le spiegazioni e le narrazioni dietro a questo comportamento clienterale però ecco poi alla fine quello che si va a fare se si chiamiamo le somme è alimentare questo circolo vizioso e non se ne esce non è che se ne esce sì su questo secondo me è molto interessante ad esempio ehm il fatto che vabbè in in Macedonia sono ormai più di più di vent'anni credo che non viene fatto un censimento e invece in Bosnia è stato finalmente condotto nel duemila e tredici e secondo me l'aspettativa ehm prima che uscissi uscissero i risultati anche lì ci sono voluti quasi quasi quattro anni per ricevere per avere i risultati e è stato che c'è l'aspettativa c'era un'aspettativa molto alta che tante persone si sarebbero dichiarate come others quindi ehm non non si sarebbero definite come eh Bosnia Bosniacchi e croati o serbi e invece alla fine in realtà la percentuale di persone non dichiarate o dichiarate come others è estremamente bassa e concentrata in eh città storicamente ritenute un po' rosse come ad esempio Tuzla o o Sarajevo che ma in realtà anche a Sarajevo la percentuale è molto molto più bassa di quello che ci sarebbe aspettato e ehm e questo eh questo appunto del non dichiararsi ci riporta un po' sempre alla la tua ricerca più recente fatta fatta per Eurac in cui come dicevi prima un po' tutto il mondo e paese e posizionarsi politicamente contro il sistema è estremamente poco invitante ecco esatto è difficile eh sì è poco invitante ma è è difficile ehm ma è anche scoraggiato sotto molteplici punti di vista perché nel momento in cui come dicevo prima tutto funziona secondo certi criteri le risorse vengono distribuite secondo certi criteri ma ma che vantaggio hai tu a tenerti fuori a fare don tisciotte della situazione che cosa te ne viene soprattutto in un contesto in cui le risorse sono poche ma ah cioè chi vogliamo prendere in giro nel senso quello che mi dicevano tutte le persone era cioè qua bisogna sopravvivere cioè va bene fare i paradini della giustizia però poi alla fine bisogna portare a casa il pane al fine mese no e quindi eh e questo è quello che la retorica diciamo la narrazione soprattutto che io ho trovato eh in Bosnia o in Macedonia però ecco in Alto Adige non era tanto diversa in Alto Adige eh è altrettanto poco invitante essere non non dichiararsi o comunque essere fuori da questo sistema tirarsi fuori esattamente per le la stessa ragione sebbene il contesto sia diverso cioè eh lì è proprio l'abbondanza di risorse la ricchezza e i servizi molto efficienti eh che se anche il sistema alla fine è suddiviso etnicamente ma ma chi te lo fa fare di di non metterti in mezzo ehm cioè chi te lo fa fare anche lì di dire ah no le 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 categorie etniche vanno sorpassate boh se però ti danno eh tanti benefici e privilegi ma perché perché no cioè perché andare a smantellare in questo caso un sistema che funziona eh sebbene sia etnico ma perché andare a smantellare o a far cadere un sistema che effettivamente sta garantendo ehm un equare distribuzione delle risorse ha pacificato comunque le relazioni tra i gruppi e comunque di fatto funziona nell'altro caso cioè in un caso da in un estremo perché alla fine stiamo parlando quasi di due estremi no casi estremamente poveri e un caso estremamente ricco anche perché cioè se guardiamo ai eh diversi contesti di power sharing etnico o comunque di democrazia consociativa esistenti al mondo ecco forse quello dell'alto adige possiamo dire che è l'unico che funziona in maniera eccellente e che comunque negli anni ha dimostrato una certa permeabilità ha dimostrato di essere sebbene etnico comunque mh abbastanza flessibile dal garantire ehm tutti quanti ecco una eh a tutti quanti di di entrare a farne parte ha comunque pacificato le relazioni tra i gruppi e non ha creato quell'immobilismo e quella eh stagnation come si dice in italiano no? O quell'etnopolitica tipica eh di tanti altri contesti perché eh se pensiamo eh non solo alla alla Bosnia e alla Macedonia ma anche al Kosovo al Libano a Cipro al Nord Irlanda sono casi abbastanza fallimentari ecco cioè non è funzionato tantissimo eh però appunto di nuovo l'opportunismo eh e gli incentivi appunto che vengono dati alle persone eh o a comunque i cittadini nel far parte di questo tipo di sistemi senza smantellarli sono veramente tanti e appunto io avevo eh utilizzato nel mio ultimo lavoro questo termine che è proprio l'allineamento opportunistico cioè ci si allinea questo sistema sebbene sia etnico per questioni meramente di pragmatiche e di di opportunità che vengono date eh a chi appunto si allinea. Ok forse per un attimo così concludere e volevo volevo tornare appunto a questa cosa che che i giovani sono il futuro in realtà la generazione più giovane che che ha intervistato è quella penso dei nostri coetanei quindi gente nata a cavallo a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 e e ovviamente questo non fa parte della tua ricerca però volevo chiedere un chiedere a te un po' la la tua qual è stata la tua impressione durante i tuoi periodi di studio in Bosnia e Macedonia come vedi ehm qual è la tendenza nelle generazioni ancora più giovani quindi quelli che stanno acquisendo adesso il diritto di voto o che comunque stanno diventando adulti adesso e se è veramente come sembra dai giornali che siano generazioni interessate solo andare allo shisha bar e o se invece c'è c'è del del fermento di di qualche genere. Ma allora eh io sulle generazioni quelle molto giovani non non ho fatto delle indagini quindi non le ho studiate ehm personalmente eh e con questo intendo i diciottenni ventenni eh odierni eh non mi sono mai rapportata con loro quindi non ho una diretta esperienza eh posso dirti che però sia in Bosnia che in Macedonia quello che ho riscontrato è ehm un altro divario generazionale quindi quelli i nostri coetanei quindi trentenni eh quelli che hanno eh praticamente vissuto la guerra in Bosnia piuttosto che eh il passaggio tra un regime e l'altro comunque no? Quindi dalla caduta della Jugoslavia eccetera e che vivono ehm cioè sono cresciuti socializzati con questi genitori che erano i jugoslavi no? Ecco questi giovani hanno mi hanno sottolineato più volte delle differenze tra loro generazionali abissali tra loro nati negli anni fine anni ottanta con quelli con i giovani nati negli anni duemila eh e infatti questa sarebbe effettivamente un'altra ricerca interessantissima da fare quindi un'altra ricerca bigenerazionale però sui giovani cioè su due i trentenni e i ventenni proprio perché anche lì parliamo di background completamente diversi e ehm quello che mi mi si diceva è che i giovani i ventenni di oggi sono molto più nazionalisti molto più ehm sì nazionalisti alla fine non ci sono mezzi termini questo era il termine utilizzato i giovani di oggi sono molto più nazionalisti e mi dicevano sono nazionalisti e non sanno neanche come era prima cioè non hanno eh effettivamente un metro di paragone però di nuovo se andiamo un attimo a fare un attimo il pelo nel luogo a guardare il pelo nell'uovo no? Eh bisognerebbe sicuramente fare uno studio più approfondito però di nuovo qua l'influenza del del contesto familiare e del vissuto dei genitori secondo me di nuovo eh è di di fondamentale importanza perché eh questi giovani sarajevesi per esempio eh che io intervistavo e che mi dicevano di essere cresciuti in Sarajevo sotto assedio o comunque sono stati profumi sono stati alcuni hanno vissuto in Italia e poi sono tornati altri hanno vissuto altrove hanno comunque eh dei genitori che gli hanno trasmesso eh il ricordo della Jugoslavia il ricordo del vivere insieme che cos'era eh hanno quindi questa esperienza positiva questi loro genitori e gliel'hanno trasmessa gli hanno raccontato che era possibile vivere assieme che era possibile eh non strumentalizzare l'identità le le questioni etniche la religione li hanno trasmesso mentre invece i ragazzi che hanno vent'anni oggi i loro genitori hanno quarant'anni quarantacinque quindi sono quei ventenni degli anni novanta sono quelli che volevano eh avevano in testa il sogno jugoslavo no? Quindi vado in università poi avrò un lavoro poi avrò una casa e andrò in vacanza e invece no poi è scoppiata la guerra ed è caduto tutto e quindi hanno avuto il sogno infranto no? E e di conseguenza ce l'hanno a morte con quel sistema che non ha funzionato sono poi avevano vent'anni hanno dovuto imbracciare i fucili quindi ecco stiamo parlando di questo tipo di vissuto e chiaramente la loro esperienza negativa eh sì delusional come si come si può dire questa delusione grande che hanno avuto eh nella loro prospettiva futura è poi stata anche trasmessa ai loro figli che adesso hanno vent'anni e che adesso probabilmente vedono nel partito nazionalista nella militanza nel partito nazionalista l'unica prospettiva l'unica prospettiva anche di successo di avere un lavoro cioè se non c'è il partito nazionalista nel mio piccolo villaggio magari non farò mai la maestra magari non avrò mai un lavoro per esempio perché comunque stiamo parlando di contesti comunque anche spesso abbastanza rurali contenuti cioè sappiamo tutti eh che la Bosnia e la Macedonia non hanno queste grandissime popolazioni che la maggior parte della popolazione urbana è concentrata in due tre città in Bosnia due città tre in Macedonia poi il resto comunque è contesto eh rurale quindi ecco anche lì ci sono eh dei dei di vari non indifferenti eh comunque ecco non voglio fare tutta l'erba un fascio non voglio dire i giovani di oggi sono ignoranti e nazionalisti ci mancherebbe assolutamente no eh però ecco queste questioni vanno studiate secondo me la prospettiva generazionale da una buona ehm è una buona prospettiva ecco mettiamola diversamente è una buona prospettiva per per cercare di capire eh certi fenomeni e soprattutto anche l'evoluzione di questo tipo di società che secondo alcuni potrebbe essere un'involuzione perché stiamo tornando ma anche noi in Europa voglio dire a certe idee a certe retoriche che boh sembrano quasi primitive a volte no però comunque quando ci sono degli shock importanti a livello sociale politico ed economico poi comunque si fa sempre tutti quanti un passettino indietro no quindi secondo me anche la prospettiva generazionale cercare di ricapire il vissuto del genitore eccetera ha comunque una una certa rilevanza ecco ok io non ho altre domande penso che diciamo quello che c'era già dire lo abbiamo affrontato in maniera abbastanza estesa e non so se 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 Roberto ha qualcosa da aggiungere o se no possiamo aprire magari alle persone se vogliono scrivere nella chat le domande come volete sì no io grazie entrambe è stato molto interessante avrei avrei molte domande da chiedere però vorrei dare l'opportunità non non abusare del del fatto che in qualche modo sono moderatore di questo incontro e dare la possibilità che è collegato di bene vediamo se qualcuno dal che è collegato vuole fare qualche domanda altrimenti accorberto chiedo per favore di scriverle in chat in caso ci fossero delle domande oppure se vogliamo dare un minutino per riflettere sul perché sono state sollevate tante questioni interessanti nel frattempo magari ti ti pongo una domanda volentieri diciamo mi pare strettamente connessa al tema della presentazione ma anche anche se non è stato oggetto se ho ben capito in maniera diciamo diretta della tua ricerca e cioè vorrei chiederti una tua veloce visti tempi valutazione dei dei movimenti sociali nel sia in macedonia che in bosnia perché naturalmente ci sono stati diciamo fenomeni di contestazione nei confronti di questo sistema clientelare e correttivo così esteso sia in bosnia che macedonia in bosnia particolare 2014 macedonia un po dopo però insomma e questi movimenti sociali hanno coinvolto varie fasce sociali e in particolare giovani non solo i giovani ma anche i giovani sembra però che questi movimenti la mia impressione che non abbiano lasciato un'impronta particolarmente forte nella società ecco e allora volevo chiederti se diciamo la tua valutazione sulla base appunto della tua ricerca e se questi movimenti possono avere per decisioni sono eventi che vanno e vengono diciamo nel corso del tempo ma comunque possono incidere o contribuire a incidere ehm nel verso un cambiamento sia politico che sociale ma allora grazie per la domanda è sicuramente molto interessante e tutta la questione dei movimenti ehm è sicuramente molto importante ed interessante ma non mi sono mai occupata nello specifico ehm della questione eh tuttavia appunto come dicevo prima ehm ero a scopi quando c'è stata la Colorful Revolution e poi ancora prima guarda caso eh ero anche in in Bosnia vivevo in Bosnia Sarajevo quando c'erano le i movimenti del 2014 perché ero là per la ricerca precedente della della magistrale quindi ecco ho vissuto proprio comunque quei quei periodi di di grande tumulto ecco ehm tuttavia sì effettivamente sembra che lasciano un po' il tempo che trovano no? Eh non sembra che ci sia questa rabbia eh anche eh civile popolare che giustamente viene cavalcata ad un certo punto però poi ehm tutto torna un po' come prima eh sembra quasi che lo scetticismo poi no? E la speranza che effettivamente il sistema possa cambiare dopo un po' vada scemando cioè che tutti cerchino di ma poi alla fine ci si rende conto che effettivamente eh ci vuole ben altro per effettivamente cambiare questo tipo di sistemi che non basta eh a scendere in strada e e protestare uno due tre settimane di fila ma ci vuole ben altro l'elite politica non è disposta comunque a a a un certo tipo di compromessi no? Eh perché ehm i compromessi che si chiedono all'elite politica sono troppo grandi sono quelli di eh cambiare il sistema ma cambiarlo drasticamente e effettivamente eh l'elite non non mi pare proprio in bo dell'idea quindi ecco c'è un po' questo scetticismo questo anche pessimismo eh da parte dei giovani ma non solo un po' di tutti no? E un po' le 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 generazioni più eh anziane chiamiamole anziane sono un po' rassegnate e e i giovani anche i giovani eh anche quando cercano di cambiare le cose poi vedono che effettivamente vanno a sbattere contro dei muri e che ci sono delle dinamiche eh anche clientelari che sono eh così radicate e anche così entrate a far parte proprio del tessuto sociale e culturale eh che è troppo difficile cambiarle quindi poi di nuovo uno si si riadatta a quelle che sono le le norme eh vigenti e le regole tacite talvolta vigenti nella nella tua propria società no? E quindi tanti vedono queste battaglie come delle battaglie perse in partenza e secondo me è un po' così eh a se anche uno ci vuole credere poi alla fine si deve scontrare effettivamente con una realtà veramente grande da cambiare e talvolta cercare di cambiarla ti chiede di pagare un prezzo che è troppo alto e e non tutti se lo possono permettere perché alla fine è questo non tutti se lo possono permettere perché eh tanti tantissimi la maggioranza secondo me vorrebbe cambiare le cose però la maggioranza non se lo può permettere non ti puoi permettere talvolta di fare appunto il paladino della giustizia per cambiare il sistema anche perché questo tipo di cambiamenti non avvengono dall'oggi al domani richiedono moltissimo tempo magari richiedono dieci vent'anni e chi te lo fa fare di fare il sacrificio tu oggi di morire di fame tu oggi per eh qualcosa che per un cambiamento che magari non vedrai lo vedranno magari i tuoi figli però tanta gente la maggioranza della gente ma questo non solo in Bosnia o in Macedonia anche in Italia è così ma credo che ovunque sia così tanti non vogliono fare il sacrificio oggi perché non vedranno il cambiamento il cambiamento lo vedrà la generazione dopo quindi tanti non non se la sentono non se la sentono e non se lo possono neanche permettere abbiamo ben tre domande sono tutte e tre molto sostanziose e parto dalla prima di Marcello spero che aver detto giusto dal punto di vista dei riferimenti culturali come sono cambiati i giovani bosnia ci mi spiego per esempio musicalmente siamo passati dalla sevda al turbo folk con tutto quello che sta dietro a queste tendenze culturali e oggi quali sono i riferimenti eh quanto pesa la presenza del radicalismo islamico nella società bosnia qui sui sui giovani d'oggi poi posso aggiungere anche io quella che è la mia esperienza diciamo di field in Bosnia abbastanza eterogenea e non so se vuoi che le lega tutte o partiamo facciamo una per volta sì perché sennò poi facciamo cioè si concentrano troppo allora eh i riferimenti culturali come sono cambiati ma allora eh in realtà non avendo fatto io delle interviste su più generazioni giovani eh non so esattamente fare una comparazione tra i i trentenni i ventenni e i quindicenni attuali eh le persone che io ho intervistato quindi quelli che sono i trentenni di oggi soprattutto nel contesto bosniaco erano ancora molto affezionate diciamo a questa loro eh eredità jugoslava eh quindi era normalissimo per esempio che i trentenni di oggi eh ascoltassero e Caterina Velica per esempio eh cosa che non era così però in Macedonia eh infatti questa è una delle cose che ho che a me aveva colpito tantissimo che c'era una ragazza di trent'anni che ha scopie che non aveva mai sentito parlare degli Caterina Velica ora eh io non lo so solamente i detrattori di Caterina Velica ma questa è una cosa cosa hai detto? No che io conosco più detrattori che fan di Caterina Velica ma no ok ma quantomeno uno li conosce sa chi sono sa che sono una delle più famose importanti grandissime eh band del dello Yugo Rock cioè non puoi non averle sentito parlare e invece ecco questa era una differenza molto importante che io ho trovato tra la Bosnia e i giovani in Bosnia e in Macedonia ehm però ecco non ho fatto delle comparazioni tra eh le loro eh preferenze eh musicali culturali tra diverse generazioni giovani eh quindi questa è diciamo una una parziale risposta a questa domanda. Per quanto riguarda. Se vuoi posso aggiungere io la mia esperienza eh bosniaca perché alla fine io in Bosnia ho abitato a Bagnaluca che è la città diciamo capitale della della Repubblica Serbska quindi eh dopo la guerra è diventata una città maggioranza serba e ho abitato a Sarajevo un anno e mezzo e due anni a Tuzla quindi diciamo che ho un po' eh sperimentato le varie aree di riferimento della Bosnia e in realtà secondo me questo dire che sia passati dalla Sevda al Turbo Folk è un po' come dire che in Italia ascoltavano tutti Celentano cioè la Sevda è sicuramente un riferimento culturale molto importante per 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 tutti i Balcani in realtà oltre la Bosnia e però c'è come dire ascoltiamo in Italia tutti la musica lirica e e la Turbo Folk invece è una cosa che io ho visto onnipresente a Bagnaluca ovviamente e però ad esempio a Sarajevo è vista come una cosa da contadini cioè sì o si o o la si vede con ironia hipster quindi andiamo a ballare la Turbo Folk perché è così brutta che ci divertiamo e oppure è appunto vista come una roba terribile da da contadini e i riferimenti culturali dei giovani secondo me c'è tanta esterofilia quindi comunque si fa riferimento come dappertutto vista la globalizzazione a a modelli che vengono da da fuori anche c'è sicuramente c'è c'è molta esterofilia sì sono d'accordo per quanto riguarda il radicalismo islamico ecco ehm non so se mi sento di parlare di radicalismo islamico io mi sento di parlare di eh un attimo di disorientamento tra i giovani eh per quanto riguarda in generale le loro appartenenze le loro identità dovute proprio ad un vissuto molto particolare dei loro contesti eh non solo in Bosnia comunque e quindi secondo me il ritorno al al religioso chiamiamolo così ma non soltanto islamico perché gli ortodossi quando sono cioè non è che hanno una via di mezzo voglio dire io ho conosciuto un sacco di persone ortodosse serbe o ma anche cattolici cristiani che da zero a cento ecco non c'è la via di mezzo quindi non è radicalismo islamico e proprio questo secondo me senso di disorientamento di perdita un punti di riferimento e ti fanno andare a parare dove ci sono dei capisaldi uno dei capisaldi fondamentali ma storicamente in tutte le culture del mondo è la religione e eh se ti devi sentire appartenere a quel qualcosa un po' lo esasperi quindi eh non è semplicemente mh cioè eh è fuorviante parlare di radicalismo islamico l'islam ha una certa presenza soprattutto nel contesto come Sarajevo ma più che altro per questioni economiche per quanto io abbia capito il contesto bosniaco cioè eh si costruisce eh università scuole moschee centri commerciali ma perché girano i soldi non eh per altre questioni ecco e poi sicuramente anche perché comunque sì no anche perché voglio dire anche l'influenza della Russia eh con i con gli ortodossi o con i serbi o della Serbia o della Grecia o della Turchia cioè non vedo tutte queste differenze ecco semplicemente di una se ne è fatto un caso anche mediatico anche in occidente dell'altra no però ecco sicuramente le influenze economiche e poi identitarie che che altro sicuramente eh secondo me è stato fatto appunto un caso mediatico ehm quando è scoppiata la guerra in Siria ma anche prima in realtà c'è un libro molto interessante secondo me di uno studioso americano che si chiama Dary Lee e che parla appunto di come ehm jihadisti non nel senso di eh terroristi di Al Qaeda ma di combattenti che sono partiti per motivi religiosi sono andati a combattere in Bosnia durante eh la guerra degli anni novanta si sono di fatto trovati straniati perché la l'approccio alla religione musulmana in Bosnia era completamente diverso da quello diciamo saudita e e sicuramente il tutto il discorso che è stato fatto dalla guerra dalla scoppa della guerra in Siria in poi sui foreign fighters e la presenza di paragemati come si chiamano in Bosnia ehm di di Salafiti insomma è estremamente limitato cioè sono dei casi limite e e nella maggior parte dei casi non è per cioè non sono ehm persone dedicate al proselitismo ecco diciamo no no infatti ma anche perché poi comunque l'islam balcanico ha tutta una sua tradizione molto particolare di di convivenza di tolleranza e dell'essere appunto eh molto diverso da altri correnti quindi ecco io non non parlerei esattamente di radicalismo islamico eh in Bosnia poi prossima domanda di Leonardo Barattin eh buongiorno grazie per questa opportunità di ascolto e riflessione in questo processo di allineamento forzato e opportunistico vi è comunque spazio per frequentazioni e condivisioni di esperienze in comune oppure vi è uno stigma di comunità che li rende sconsigliabili e molto rari mi è sembrato di notare questo freno quest'azione di dissuasione già a livello familiare proprio in occasione di amore tra i giovani come eh come a Mostar e a Vukovar grazie bene ok allora sicuramente ci sono opportunità di eh esperienze in comune eh però di nuovo qui eh anche il contesto specifico influenza molto perché come dicevo prima in un contesto come Sarajevo eh è impossibile evitare qualcuno quindi tutti conoscono tutti e tutte le persone hanno amicizie eh di non lo so un non lo so un serbo un croato un bosniaco un qualsiasi cosa ehm un conto però sono le amicizie un conto sono i partner quindi i possibili potenziali fidanzati fidanzate che poi si portano a casa ecco in quel momento allora sì c'è un attimo di scontro perché anche le persone o le famiglie che sono più jugoslave più aperte però a un certo punto ti dicono ma sei proprio sicuro perché potresti poi avere dei problemi in futuro perché non lo so se vuoi il tuo potenziale eh fidanzato fidanzata ha un nome estremamente non lo so etnicamente connotato da un lato dall'altro non è importante potresti avere dei problemi in futuro i tuoi figli potrebbero avere dei problemi in futuro eh quindi questo è un po' il lo scontro ecco che c'è a livello ehm più che altro è un è un dettame politico cioè è un problema politico che poi si traduce in effettivamente un problema delle persone ma un problema che forse non esiste cioè che è più nella testa delle persone che è un problema reale eh questo per quanto riguarda il contesto bosniaco ehm invece in in Macedonia è molto diversa la questione in Macedonia non c'è mai stato il famoso melting pot della Bosnia i matrimoni misti non sono mai stati eh praticati e le comunità ehm le due più grandi comunità quindi i macedoni e gli albanesi da sempre e anche a scopie hanno sempre vissuto delle vite completamente separate eh ci sono quartieri separati scuole separate ma da sempre e da sempre non si sono frequentati quindi tutt'oggi non è neanche pensabile cioè ma non è neanche una delle opzioni delle persone eh andare a sposarsi con uno di un'altra etnia o dell'altro gruppo e talvolta eh cioè talvolta il più delle volte i giovani stessi frequenta hanno delle vite completamente separate che io ho conosciuto dei trentenni che mi dicono ma sai per la prima volta sto parlando con una ragazza dell'altro gruppo e avevano trent'anni quindi non è è un contesto completamente diverso da quello bosniaco quindi ehm appunto anche il contesto urbano comunque eh influenza molto moltissimo eh il tipo di interazioni che si hanno e poi chiaramente anche il background familiare però talvolta anche proprio il contesto e la divisione urbana di quartieri piuttosto che scuole eh preclude completamente a priori un certo tipo di interazioni e poi a un certo punto certi problemi non te li poni neanche. Sì no infatti per me era molto interessante l'articolo che avevo menzionato prima di Asra Cromagic perché lei faceva appunto aveva fatto questo studio etnografico nel famoso liceo di Mostar che è una delle due scuole sotto lo stesso tetto per cui le lezioni sono separate però ehm tipo i bagni sono in comune e era uno dei pochi luoghi in cui i ragazzi potevano incontrarsi senza essere visti dai genitori o dagli adulti e e che quindi era l'unico posto che loro ritenevano ehm sicuro per potersi comportare in maniera libera e però alla fine erano tutti così influenzati dalla dalla posizione degli adulti che dicevano finché è una cosa così non è un problema però non può diventare una cosa seria perché cosa ne penserebbero i miei se avessimo figli che nome gli daremo perché e questo è questa cosa qui ultima penso domanda poi possiamo chiudere eh Davide eh ci chiede ehm come influisce l'identificazione europea o meno con l'identità etnica e nazionale in questi contesti eh la liberalizzazione dei visti dal 2010 in poi e la possibilità di e di spostarsi più agevolmente nel resto d'Europa ha influenzato la socializzazione delle più giovani generazioni? ma grazie Davide per la tua domanda eh allora cosa posso dire che ehm per quanto riguarda l'identificazione europea ecco eh io sono molto scettica su questa questione dell'identità europea perché ehm sono scettica anche per quanto riguarda gli europei stessi non credo esista un'identità europea però questo è una mia personale ehm opinione eh quello che io credo invece nel contesto in generale della della ex Yugoslavia quindi dell'est Europa è che più che identificarsi con l'Europa loro vedono all'Europa come un farro di salvezza cioè vogliono andare in Europa non perché si identifichino in qualche modo con la cultura e i valori dell'Europa occidentale diciamo ma più che altro perché vedono delle opportunità per il futuro perché che vedono la possibilità di avere un un lavoro una vita dignitosa eh e e appunto in generale una serie di eh servizi e eh situazioni che i loro paesi d'origine non gli stanno offrendo ehm io non credo che nessuno eh voglia andarsene da casa propria ehm talvolta però sono le 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 condizioni che ti costringono a fare questo pensiero ovvero io ho conosciuto tantissime persone soprattutto in Bosnia che studiavano medicina o che studiavano in tedesco ma non perché loro si sentissero europei o o amassero eh l'idea di andare a vivere a Berlino o o trasferirsi di punto in bianco andare in Germania assolutamente no cioè secondo me eh era proprio l'ultimo dei loro dei loro pensieri o delle loro aspirazioni di vita tuttavia eh è una questione appunto di nuovo di opportunità quindi secondo me più che identificarsi con l'Europa loro vedono all'Europa come una speranza è un po' come gli italiani vedevano l'America no? Il grande sogno americano è per loro il grande sogno europeo eh per quanto riguarda poi la possibilità di spostarsi più agevolmente questa cosa mi è stata detta un sacco di volte però alla fine eh bisogna anche di nuovo scontrarsi con la realtà dei fatti ma chi è che sono quei bosniaci o non lo so eh tutte quelle persone eh anche in Macedonia che possono veramente spostarsi così agevolmente in Europa eh ma chi chi compra un volo loco a parte la pandemia chi compra un volo e va a farsi il weekend a Parigi eh non soltanto il volo magari il volo se lo possono anche permettere ma io ricordavo amici che c'era un volo super eh economico per la Danimarca hanno comprato i biglietti entusiasti costano solo nove euro e poi si sono resi conto che non si sarebbero mai potuti permettere l'Airbnb ma esatto a Copenaghen perché gli costava come un mese d'affitto a Tuzla esatto esatto è quello che sto dicendo quindi possibilità di spostarsi agevolmente però boh non è effettivamente così perché voglio dire farti un weekend in una capitale europea così perché puoi spostarti boh trecento quattrocento euro ripartono i trecento quattrocento euro sono lo stipendio medio di una persona in Bosnia o in Macedonia quindi ecco non è esattamente così così semplice quindi eh boh non è non so eh secondo me come dicevi tu appunto l'Europa è è una speranza e di nuovo mette in gioco l'opportunismo qui si assiste chiaramente sono in Macedonia mi immagino che sia un fenomeno sia un fenomeno limitato però a gente che scava il proprio albero genealogico per trovare il nonno bulgaro o nato in sul confine di dubbio e origine etnica per poter avere il passaporto bulgaro e poter andare a lavorare con minori problemi in Europa così come e no no certo Bosnia hanno lasciato in massa la Bosnia nel duemila e tredici una volta che appunto la Croazia è entrata in Unione Europea esatto infatti quindi e poi ecco un'altra cosa che io avevo notato è che per esempio eh spostarsi in Europa a parte che dalla Bosnia è estremamente difficile cioè noi che siamo stati expat per lungo tempo lo sappiamo bene che non c'è neanche un volo che ti collega l'Italia alla Bosnia da maggio da maggio Bagnaluca a Bergamo e ho capito però eh invece a a Scoppie era stata una una rivoluzione il fatto che la Witzer che è questa compagnia ungherese avesse fatto dei voli low cost voli diretti per esempio da Scoppie con un sacco di città europee e potevi effettivamente partire con nove euro quindi quella sì che per alcuni eh per chiaramente quelli che avevano comunque eh una certa disponibilità anche capacità economica è stato effettivamente uno sblocco no un un'opportunità l'hai notato l'hai notato anche tu la maggior parte delle persone su questi voli è diaspora che torna a casa di diaspora che torna a casa perché sì eh tanti albanesi o eh macedoni che hanno parenti che comunque già vivono o lavorano eh nel nord Italia ok mi ricordo quando viaggiavo io e poi comunque voglio i i macedoni in linea di massima eh se devono andare da qualche parte che possiamo chiamare Europa vanno a Tessaloniki a fare il weekend eh oppure vanno eh in Bulgaria massimo eh fine della storia eh però ecco io penso che il novanta per cento delle persone vada o a o a Tessaloniki basta e i bosniaci neanche 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 quello vanno a Neum o al massimo vanno dove a Makarska in Croazia Makarska eh quindi ecco questa è un po' l'Europa vista col binocolo eh diciamola un po' così bene io fermerei qui per questioni di tempo mi sembra sia stata una presentazione e conversazione davvero molto interessante molto stimolante come anticipato e quindi eh grazie ad Aliana Piacentini a Caterina Gobret per le sollecitazioni e a quanti hanno partecipato online ehm questo pomeriggio ehm ricordo solo una cosa velocissima che è la seguente ehm questa registrazione sarà poi postata sul sito dell'Osservatorio Balcani a Caucaso TransEuropa e anche sul sito eh del Jean Monnet ehm centro d'eccellenza Jean Monnet del dell'Università di Trento ehm ricordo velocemente che il il centro Jean Monnet l'Ateneo e in particolare sottoscritto concretamente insieme all'Osservatorio ha ehm in corso questo progetto eh questa cattedra Jean Monnet che si chiama European Union in the Western Balkans Enlargement and Resilience e all'interno di questa di questo progetto abbiamo ehm organizzato una serie di di incontri e di eventi e quindi invito ehm tutti a a prendere visione di anche di precedenti lezioni se vogliono farlo ehm quindi di nuovo grazie a tutti e vi speriamo a presto la prossima volta di persona sì dal vivo speriamo grazie a tutti buon pomeriggio grazie grazie ancora a Robert Caterina per questa bella discussione questa bella chiacchierata che ci siamo fatti grazie a tutti i partecipanti e se volete leggere il mio libro ovviamente siete benvenuti un po' di pubblicità no nulla vi magari posso scrivere ehm il mio indirizzo email se qualcuno ecco non so vuole dei chiarimenti vuole eh non so eh il libro piuttosto che e nulla di nuovo grazie a tutti e a presto ciao Cate grazie ciao Roberto ciao ciao